Alle 16 presentazione ufficiale di Andrea Iaconi nell'azienda Infosat del neopresidente Franco Iacchini. Verratti e Tonali, i suoi fiori all'occhiello. Tra i tecnici, Sarri e Marco Giampaolo, la curiosità a introdurlo nel calcio il terramano è indimenticabile. Carmine Rodomonti, Andrea Iaconi, 66 anni, torna così ad avere un ruolo attivo nel calcio dopo tre anni e mezzo. Ultima esperienza a Brescia, 5 anni, in precedenza a Grosseto, sempre in B, Arezzo in C, soprattutto Pescara, club a cui si è legato per ben 14 anni. Da ADS piuttosto giovane, appena 26 anni, le prime esperienze di Sant'Egidio e Pineto con altrettanti campionati vinti in eccellenza. Quindi un mese a Francavilla in C2, prese Bruno Nobili, calciatori a fine carriera, ma ancora decisivo. Giulia Nova, 5 anni, dove portò Franco Oddo, col quale aveva già triunfato in eccellenza Pineto, prima dell'approdo a Pescara, la significativa tappa nella San Benedettese, nobilitata dalla promozione in C1. Ora il terramo, patron Iacchini, ha fortissimamente voluto Andrea Iaconi, totale fiducia in carico di general manager. Al suo fianco Sandro Federico, 3 anni di contratto, progetti ambiziosi, partendo dalle basi. Settore giovanile e infrastrutture, la scelta di affidare la guida tecnica a Bruno Tedino va vista in questa direzione. Il tecnico trebigiano ha lavorato infatti anche in federazione, bienio 2013-2015, prima come tecnico dell'Under 16, poi come vice dell'Under 17. Insomma, le idee sembrano essere molto chiare. In bocca al lupo!